In questa pesca andiamo a comprare le camole finte delle Becker Becker, gusto aglio Ok sono per uscito, ho preso degli emini della katana senza ardiglione Dei segnalatori per la pesca mosca E i powerbite della Barkley, gusto aglio, quelli nuovi E adesso vediamo se... prezzo inquietante eh, per dei pezzi di plastica E adesso proviamo ad andare su al laghetto e vedere se riusciamo a tirare fuori un bel po' di trota Con questo tipo, con questa variante di pesca mosca Che devo dire la verità non mi piace Perché mi sembra di pescare con galezzante Però vedo che ha i suoi successi Grazie a tutti